Quello per il crack di Banca Etruria potrebbe essere il processo penale con il maggior numero di costituzioni di parti civili in Italia, largamente superiore alla costa Concordia. Il 22 di giugno si terrà l'udienza preliminare che vede la richiesta di rinvio a giudizio per i 21 ex vertici della Popolare, formulata dal procuratore capo Roberto Rossi con l'accusa di bancarotta fraudolenta. 1517 le richieste solo di feder consumatori che richiederà un risarcimento morale per i tanti risparmiatori azzerati. Ci costituiamo come associazione per avere anche danni patrimoniali, danni morali e danni sostanziali. I risparmiatori li facciamo costituire esclusivamente per avere danni morali e esistenziali. Qui abbiamo avuto storie purtroppo di drammi familiari, gente e famiglie che si sono disglegate. L'associazione è pronta poi a dare battaglia nel caso in cui il processo porti ad individuare eventuali altre responsabilità. Verso certe azioni di responsabilità verso gli organi interni, non solo perché probabilmente se durante la fase del processo venisse fuori delle responsabilità anche della Consob e dovremo tener conto di quale livello di responsabilità ci sono state anche esterne che hanno prodotto il crack della banca.